Buonasera e bentrovati in questa nuova edizione del TG6. In questa edizione, questa volta l'apertura è dedicata a un grave fatto di cronaca avvenuto nella nostra regione. Un'esplosione si è verificata infatti attorno alle 14.30 in una fabbrica di recupero esplosivi militari, la Esplodenti Sabino a Casalbordino in provincia di Chieti. Secondo le prime informazioni dei Vigili del Fuoco che si trovano ovviamente sul posto insieme agli artificieri ci sono vittime, i morti sono almeno tre. Secondo quanto trapela da fonti sanitarie non ci sarebbero altre persone ferite come temuto in un primo momento, tanto che molte ambulanze erano state fatte partire dalle ospedali di Lanciano, Vasto e Ortona, oltre all'elicottero del soccorso da Pescara. Per altri dettagli noi andiamo proprio sul posto dove c'è una nostra troupe con Paolo Renzetti, proprio all'altezza del punto sulla SS16 in una località di Casalbordino dove è avvenuta l'esplosione nei pressi, nelle vicinanze. Buonasera Paolo. Sì, buonasera Andrea, buona serata anche ai nostri telespettatori. Siamo a Casalbordino in diretta a pochissimi chilometri da dove c'è stata alle 14.30 di questo pomeriggio questa terribile esplosione presso la Sabino Esplodenti. Come dicevi giustamente tu da studio, azienda specializzata nel trattamento delle polveri da sparo. Tre vittime, tre vittime accertate. Le notizie ufficiali riferiscono che non ci sono fortunatamente feriti, ma il bilancio è un bilancio sicuramente tragico. Le tre persone decedute sono Carlo Spinelli di Pollutri, Paolo Pepe di Casalbordino e Nicola Colameo di Guilmi. Le tre vittime, i tre sfortunati operai che hanno perso la vita questo pomeriggio in questa terribile esplosione. Una tragedia che ha coinvolto tutta la regione, non solo il comune di Casalbordino e la zona del Vastese in un periodo già difficile per via della pandemia. Ovviamente i vigili del fuoco, forze dell'ordine, protezione civile sono ancora al lavoro per mettere in sicurezza e per provvedere alla bonifica dell'area interessata dall'esplosione. Un'esplosione che c'è stata vicino un alto forno in una delle case matte di questa azienda. All'interno c'erano diversi operai, come poi ha riferito anche il sindaco di Casalbordino, Filippo Marinucci, che tra poco ascolteremo, che abbiamo intervistato qualche minuto fa. E proprio prima di andare in onda, proprio qualche attimo fa, è arrivato qui, direttamente dall'Aquila, dove stava presiedendo i lavori del Consiglio regionale, il presidente della regione, Marco Marsilio, per portare il cordoglio dell'intera regione Abruzzo e di tutti gli abruzzesi ai familiari delle vittime. Dicevamo che si continua a lavorare per mettere in sicurezza e bonificare la zona. Tra l'altro, lo ha detto anche poco fa il presidente della regione, Marco Marsilio, non sarà possibile prima di domani traslare i corpi, quel che resta dei corpi delle tre vittime, perché una volta messa in sicurezza la zona, solo in quel momento gli artificieri potranno entrare all'interno dell'azienda, soprattutto nella zona dove c'è stata l'esplosione, per poter permettere il recupero delle salme. E allora, come dicevamo, qualche secondo fa, proprio al suo arrivo, abbiamo ascoltato il presidente della regione, Marco Marsilio. Se la regia è pronta, possiamo vedere il primo contributo. Evidentemente che raggiungerà ulteriore dolore alla tragedia in corso e noi siamo vicini alle famiglie, porto il cordoglio, le condoglianze di tutta la giunta, di tutto il Consiglio regionale, che era riunito all'Aquila, che ho lasciato dopo aver dato questo annuncio e sono portatore appunto dei sentimenti dell'intera regione, di tutti i cittadini, per quello che sta accadendo, per quello che è avvenuto qui a casa al Bordino. Il Presidente ci conferma, sono tre le vittime? Da quello che sappiamo sono tre vittime, il medico è entrato, ha accertato, prima che gli venisse notificato anche al medico che per ragioni di sicurezza non poteva accedere, comunque nel frattempo era avvenuto e quindi credo che sul numero delle vittime dovrebbe essere confermato questo dato. Le cause? Queste le possono conoscere solo gli investigatori e gli esperti che sono al lavoro e che lavoreranno tanto più domani mattina quando con la luce del sole le condizioni di sicurezza potranno permettere l'accesso degli artificieri e degli investigatori. E dunque abbiamo ascoltato le parole del Presidente della Regione, ovviamente come potete vedere alle nostre spalle, grazie alle immagini del collega Loris Bennato, tutta la zona Eob Limits è stato interrotto ed è chiusa al traffico la strada, parallela strada statale 16, proprio alle nostre spalle, è stato interrotto anche il traffico ferroviario sulla linea adriatica, proprio per permettere il lavoro degli artificieri, delle forze dell'ordine e dei soccorritori. Come vedete la strada alle nostre spalle che conduce proprio nella zona dove è avvenuta la tragedia questo pomeriggio. È chiusa al traffico, è chiusa al traffico dalle 14.30 di oggi e lo sarà fino almeno alla giornata di domani. Dicevamo una tragedia che ha scosso soprattutto la comunità di Casalbordino, la zona del Vastese e noi abbiamo ascoltato proprio le parole del primo cittadino di Casalbordino, Filippo Marinucci, provato da questa tragedia, sindaco che conosceva una delle vittime ma che conosce anche i titolari di questa azienda e come ha detto ai nostri microfoni il primo cittadino. Quest'azienda e i titolari hanno sempre lavorato per la massima sicurezza ovviamente parlando di un lavoro, di un'attività che nasconde sicuramente dei rischi. Allora andiamo ad ascoltare le parole del sindaco di Casalbordino, Filippo Marinucci. Sindaco, una tragedia da cui è difficile davvero trarre anche qualche parola in questo momento. Cosa si sente di dire alla comunità di Casalbordino ma all'intera zona qui del Vastese, dopo questa tragedia emmane? Sicuramente la mia vicinanza è il familiare delle vittime, come ben detto non è soltanto una tragedia di Casalbordino ma anche di altri paesi, Pollutri e di Wilmi. Una fabbrica che fa della sicurezza il punto principe, soltanto una fabbrica che ha la sicurezza, l'incidente dietro all'angolo. È una fabbrica grossa, 70 dipendenti su un'area di quasi 20 etri di terreno e quindi con alta incidenza di pericolosità. L'incidente è avvenuto intorno alle 14, 14 e un quarto, così mi hanno detto perché l'area non si può avvicinarsi all'alto forno dove si ha lo smaltimento delle polveri e per cause che bisogna accettare, tre persone che erano adibite allo smaltimento hanno perso la vita. Quante persone c'erano al lavoro all'interno? Si è riuscito a ricostruire? Su 50-60 persone sicuro. Lei conosce i titolari di questa azienda? Conosco i titolari, conosco anche una delle vittime, è molto vero perché è un mio compaesano. Vogliamo un attimo spiegare a questa azienda che il lavoro svolge? Sbaltisce materiale bellico principalmente, quindi va a rendere in occhio le varie bombe, le varie mine che sono di produzione a livello mondiale perché questa azienda adesso agisce principalmente per tutta l'Europa e qui si va a detonare i vari ordini bellici recuperando le polveri che poi vengono bruciate. E dunque queste le parole del primo cittadino di Casalbordino, Filippo Marinucci. Questa purtroppo l'ennesima tragedia che accade nella nostra regione negli ultimi anni, la mente ritorna soprattutto a quanto avvenne a Villa Cipressi di Città Sant'Angelo nel 2013 quando ci fu l'esplosione all'interno di una fabbrica di fuochi di artificio, anche lì il bilancio delle vittime fu un bilancio molto pesante e a distanza di oltre sette anni si rinnova il dolore per una nuova tragedia. Da Casalbordino per il momento è tutto, linea che può tornare allo studio. Grazie, grazie a Paolo Renzetti, proseguiamo con il nostro telegiornale, andiamo al bilancio Covid nella nostra regione, pochi tamponi analizzati nelle ultime 24 ore in Abruzzo, da cui emergono 64 nuovi positivi, lieve aumento dei ricoveri in terapia intensiva, scendono gli attualmente positivi, il servizio di Alfredo Primante. Ed è il 4,4% il tasso di positività ai test anti-Covid nella nostra regione. Nelle ultime ore sono stati individuati 64 nuovi positivi emersi dall'analisi di 1.449 tamponi molecolari. I nuovi pazienti hanno età compresa tra i 4 e i 90 anni. Registra una frenata e il bilancio dei decessi sono 5 di età compresa tra 59 e 95 anni, per un totale da inizio emergenza di 1.129 morti. Lieve risalita dei ricoveri in terapia intensiva, saldo a più 1 rispetto a ieri, con 4 nuovi ricoveri e 3 dimissioni per morte o miglioramento delle condizioni. Sono 43 complessivamente i posti occupati nelle 4 ASL, mentre il totale dei ricoveri scende a 555, meno 2 rispetto a ieri. Continuano a crescere al ritmo sostenuto le guarigioni, 432 in più rispetto a ieri, complessivamente le persone che hanno superato la malattia, dunque, sono 19.739. Ancora in declino gli attualmente positivi, meno 374, ora a quota 12.666. Sono complessivamente 33.534 i casi di positività al Covid registrati in Abruzzo da inizio emergenza. Tutti i collegamenti da e verso il Regno Unito sono annullati tramite ordinanza del Ministero della Salute a causa della scoperta di una nuova variante del Covid. Ieri a Pescara sono arrivati da Londra gli ultimi 136 passeggeri. Giuseppe Nintino. Sospeso ogni collegamento tra l'Italia e il Regno Unito, questa la decisione del Ministro della Salute e Speranza dopo la scoperta di una nuova variante del Covid. I traffici da e verso la Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord sono sospesi fino alla 6 di gennaio e ordinanze simili sono disposte da altri paesi europei. Bloccati oltre manica quindi migliaia di cittadini italiani, tra loro anche molti abruzzesi fuori sede. Ieri a Pescara è atterrato l'ultimo aereo proveniente da Londra, poiché al momento della firma dell'ordinanza ministeriale il mezzo era già in volo. 136 persone sono così sbarcate in Abruzzo e sono ora in isolamento fiduciario. Noi d'accordo con la Polizia di Stato abbiamo allertato gli agenti sul posto e abbiamo schedato per usare una brutta parola i 136 passeggeri che quindi sono conosciuti, si sa dove sono andati e sono tutti in quarantena. Questo per proteggere gli abruzzesi e cercare di fare il possibile per contenere eventuali contagiati, ci fossero tra i 136, cosa naturalmente che non sappiamo e che sapremo soltanto quando le ASL che hanno tutti i nominativi li sottoporranno a tampone. Io mi auguro, essendo i 136 partiti con un tampone di partenza entro le 48 ore negativo, mi auguro che non ci siano casi e quindi mi auguro che noi non abbiamo involontariamente importato in Abruzzo questo nuovo ceppo. Era infatti già previsto che per poter salire a bordo di un aereo è obbligatorio presentare il risultato negativo di un test effettuato nelle ultime 48 ore. Questo però non dà garanzia al 100%, è infatti possibile contrarre il virus in qualsiasi momento anche dopo aver già effettuato il test quando si è in procinto di imbarcarsi sul volo. La nuova variante non è più letale di quella conosciuta finora e non sembra alterare la capacità protettiva del vaccino. E' però più contagiosa, avvisano gli esperti, questa variante si diffonde il 70% più velocemente. Il nuovo ceppo è già stato individuato in Italia in una passeggera atterrata a fiumicino. Diversi sono gli aerei che ogni settimana collegano l'Abruzzo al Regno Unito, sei sono quelli annullati questa settimana. Da oggi, due oggi, due dopodomani e altri due in settimana, sei in questa settimana fino a Natale. Quindi noi perdiamo sei voli, tre andate e tre ritorni. La nuova variante circola in Inghilterra da mesi, in calza Walter Ricciardi, consulente del Ministro della Salute. Londra sapeva già da settembre, ma lo ha tenuto nascosto. Se questo fosse vero, allora bisogna tener conto che sono migliaia le persone che si sono spostate negli ultimi tre mesi tra l'Italia e il Regno Unito. Diciamo che nell'ultima settimana si saranno mosse poche centinaia di persone, saranno decine di migliaia in tutta Italia. È chiaro che se si fosse potuto sigillare tutto il giorno in cui si è saputo, comunque quando si era certi, le cose erano più tranquille. Oggi quello che si è potuto fare si è fatto. CNA sollecita la Regione a procedere celermente all'erogazione dei contributi promessi. Battibecco con l'assessore regionale Damario che risponde piccato. Il servizio. Quando saranno erogati i contributi regionali promessi? È quanto si chiede la Confederazione dell'Artigianato e della piccola e media impresa. Bisogna infatti ancora procedere alla liquidazione delle somme inserite nella prima tranche dei cura Abruzzo 1 e 2 varati l'estate scorsa. Cerchiamo semplicemente di rappresentare al meglio le nostre imprese. Al governo regionale abbiamo chiesto di procedere con rapidità e con tempi certi all'erogazione dei fondi stanziati proprio per le imprese che in questo momento si trovano ad affrontare una difficoltà sia economica che sanitaria. Alla regione abbiamo sempre offerto il nostro contributo, la nostra collaborazione e non intendiamo in questo momento venirmi a meno e innescare conflittualità che non servirebbero e non aiuterebbero nessuno. Gli uffici regionali stanno lavorando per arrivare a liquidare tutte le pratiche nei tempi prestabiliti. Risponde così l'assessore regionale alle attività produttive Daniele Damario che giudica totalmente fuori luogo, fuorviante, pretestuosa e inopportuna la presa di posizione di CNA. I dipendenti regionali, aggiunge Damario, stanno rinunciando anche allo smart working pur di arrivare ad evadere le 11.000 richieste di contributo già depositate in ragioneria. Bilancio di fine anno positivo per l'Università di Teramo, nonostante un 2020 terribile. Le iscrizioni sono aumentate del 4,5% e il numero totale degli studenti potrebbe arrivare a quota 2.000. Il rettore Dino Mastrocola si dice fiducioso per il futuro dell'Ateneo Teramano ma non risparmia critiche alla regione Abruzzo che ha scelto un'università non abruzzese per una convenzione agro-silvo-pastorale. Il servizio di Togna Bonici Castelli. È una squadra forte e unita quella dell'Università degli Studi di Teramo che ha fronteggiato con coraggio e determinazione un 2020 terribile. Le iscrizioni sono aumentate del 4,5% e il totale degli iscritti potrebbe sfiorare i 2.000 studenti. Nel bilancio di fine anno dell'Ateneo Teramano ci sono momenti indimenticabili come la visita per la prima volta di un Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha inaugurato proprio questo anno accademico. La partecipazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, a due eventi ma anche il Premio Nazionale Smartphone d'Oro vinto per la comunicazione istituzionale. È stato un anno difficile che però ci ha messo alla prova e devo dire che l'Università di Teramo siamo alla fine di questo annus orribilis è riuscita a difendersi bene. Lo dicono i numeri, lo dicono i risultati, ma lo dice soprattutto la determinazione che abbiamo dimostrato tutti, docenti, personale, studenti. Pensavo che il video di fine anno di quest'anno sarebbe stato povero. Abbiamo fatto fatica a far stare tutto nei soliti 10 minuti. Come si ricomincia? A gennaio torneremo a fare gli esami in presenza, speriamo il primo marzo di riniziare le lezioni in presenza e quantomeno con le formule miste. Abbiamo tutte le attrezzature per poterlo fare, abbiamo tutti i dispositivi per la sicurezza implementati già lo scorso anno, quindi sono sicuro che ci riusciremo. Intanto il 7 gennaio le lezioni all'Università di Teramo dovrebbero riprendere in presenza. Il magnifico Rettore Mastrocola si dice fiducioso per i mesi a venire e per il futuro dell'Ateneo Teramano, ma non risparmia una dura frecciata alla Regione Abruzzo che ha scelto un'Università non abruzzese per una convenzione agrosilvopastorale. Ci dispiace che la nostra Regione per una convenzione sul sistema agrosilvopastorale abbia deciso di rivolgersi ad una università esterna al sistema universitario regionale, ma molto probabilmente ha ritenuto che erano più bravi di noi. Però forse guardare anche alle eccellenze che ci sono a livello di formazione e di ricerca sul territorio non sarebbe sbagliato. Apriamo ora la pagina dello sport. Domani nuovo turno infrasettimanale per il Pescara che alle 19 ospiterà il Brescia. Convocato Cristian Galano che ha superato il piccolo problema muscolare avuto con il Monza e ha buone possibilità anche di giocare dal primo minuto. Potrebbe partire dalla panchina invece Seterre. Direzione di gara affidata a Prontera di Bologna. Cristian Galano è regolarmente convocato per il match infrasettimanale con il Brescia. Come si vede dalle immagini, l'attaccante era presente nella seduta di rifinitura di questa mattina allo stadio adriatico Cornacchia. Galano ha sostenuto una ecografia che ha scongiurato qualsiasi danno di natura muscolare. Dunque ci sarà ed ha anche buone possibilità di partire dal primo minuto. Galano aveva accusato un piccolo fastidio all'adduttore a seguito del gesto col quale aveva realizzato il gol dell'1-0 con il Monza e poco dopo aveva chiesto il cambio per poi riposare nella seduta di scarico del giorno dopo. Dubbi invece sulla presenza da primo minuto di Seterre che con il Monza ha giocato un numero di minuti più alto del previsto. Ha un po' di affaticamento e Breda potrebbe tenerlo inizialmente in panchina per poi farlo entrare nella ripresa. Torna Anzità nella lista dei convocati. Non ci sono Busellato e Masciangelo anche se l'esterno Mancino è praticamente ristabilito e sarà pronto per Chiavari. Se in attacco ci sono dei nodi da sciogliere, per il resto Breda dovrebbe confermare l'undici di sabato scorso. Una valutazione sarà fatta su Balsano in caso di panchina. Pronto Gut. Anche in casa Brescia l'ultimo cambio in panchina ha dato dei risultati proficui. Con l'avvento di Davide Dionigi sono arrivate due vittorie interne e un pari esterno. Sette punti in tre partite. Dionigi che ha parlato dei progressi della squadra e di cosa si aspetta dal match dell'Adriatico-Cornacchia. Ho avuto risposte su vari aspetti, senza concentrarsi su uno in particolare. Visibilmente ed era quello che io ci tenevo di più, era un aspetto mentale. L'attenzione e l'applicazione soprattutto al di là di questo di Unione. La partita di Pescara è una partita di crescita. Certo, è stato detto anche prima di giocare con la Reggiana doveva essere la perdita della svolta, ma non è questo oggi il nostro obiettivo. Dobbiamo continuare a fare risultati. Perché è una squadra che all'inizio del campionato, onestamente da quello che si leggeva, era stata allestita per provare qualcosa di importante. Poi le vicissitudine non sta mai giudicando quello che è successo. Ha un allenatore preparato, un allenatore, un amico, un allenatore che sa quadrare bene le due fasi e in più ha queste individualità importanti e quindi è una signora squadra da affrontare. Posso duro il Brescia per il Pescara. Tra le Mura Michele, Delfino ha 7 vittorie, 11 pareggi e ben 8 sconfitte. Negli ultimi due precedenti il Brescia ha violato l'Adriatico con risultati netti 0 a 3 nel 2017, 1 a 5 nel 2019. Risultato che lanciò le rondinelle verso la Serie A e tolse il Pescara di Pillon dalla lotta per la promozione diretta. Ultimo successo Biancazzurro nel 2016 2 a 1 con reti di Lapadula e Memusciai. Direzione di gara di Prontera di Bologna con cui il Pescara non ha mai vinto in tre partite. Due sconfitte casalinghe con Crotone ed Empoli ed un pari 2 a 2 col Perugia lo scorso luglio con errori clamorosi che penalizzarono i Biancazzurri. Una direzione e una vittoria con il Brescia. Serie C seduta mattutina per il Teramo che prosegue la marcia di avvicinamento al prossimo turno infrasettimanale di campionato in programma mercoledì a Bisceglie. Buone nuove dal fronte infermeria, sono rientrati regolarmente in gruppo il portiere Valentini e i difensori di Echite e LASIC mentre il centrocampista Ilari ha riportato una distorsione alla caviglia destra che verrà meglio valutata nelle prossime ore domani. Rifinitura mattutina prima della partenza per la Puglia. Intanto ascoltiamo il trequartista Domenico Mungo. Noi come dico sempre giochiamo tutte le partite per vincere e portare a casa i tre punti e ti ringrazio per quello che hai detto su di me ma noi che stiamo in panchina per far vedere che dobbiamo fare qualcosa in più quando entriamo e oggi è andata bene quando sono entrato e potevamo vincere pure la partita. Purtroppo non ci siamo riusciti anche se abbiamo avuto tantissime palle e golle alla fine. Stavamo facendo molto bene prima, adesso ci stanno mancando un po' le vittorie ma torneranno come facevamo all'inizio. Tutti i campionati ci sono alti e bassi è capitato a noi, fortunatamente non stiamo perdendo le partite ma stiamo pareggiando e arriveranno anche le vittorie. Speriamo già da mercoledì. Penso che non sia successo nulla di grave, anzi siamo stati bravi a riprendere la partita per come era andata e c'è sempre entusiasmo come c'è sempre stato e continuiamo a lavorare. Ripeto, pensiamo già alla partita di mercoledì e come tutte le partite dobbiamo provare a vincere. Purtroppo ci sono le partite che puoi vincere e non puoi vincere. Oggi abbiamo avuto un sacco di occasioni, non ci è girata tanto bene alla fine e abbiamo pareggiato, è meglio pareggiare che perderla. Speriamo che ci capiti anche a noi di giocare male e vincere. Se sapessimo come fare per andare a vincere tutti i primi in classifica saremmo. Noi lavoriamo per cercare di vincere tutte le partite, nessuno ha una sfera magica. La posizione dove ho giocato stasera è quella dove sto giocando, dove ho fatto tutte le valide quest'anno, quindi dove serve come sempre mi metto sempre a disposizione. Non è mai stato il mio problema e nessuno dei miei campionati che ho fatto non penso sarà un problema quest'anno. In Serie D continua la marcia del Castelnuovo che batte il Campo Basso e prende il primato della classifica del Girone F in attesa della gara che i morisani dovranno recuperare. Nel frattempo la matricola nero-verde si conferma la più bella realtà del raggruppamento. Il servizio di Stefano Recanati. Seconda contro prima Castelnuovo contro Campo Basso e questa la sfida di cartello andata in scena al comunale di Castelnuovo. La formazione guidata da mister Di Fabio ritrova dal primo minuto Massimo Loviso a far coppia a centro campo con il nuovo arrivo Marco Croce alla prima da titolare. Sulla corsia di destra Sec prende il posto di Olivi in avanti confermato Fagioli. Assenti Porrini per squalifica oltre a Titone e Sbarbati. In casa Campo Basso Piga tra i pali prende il posto di Raccichini per far spazio a Zammarchi che sostituisce lo squalificato Vitali. Dirige Braccaccini di Macerata. Avvio di gara subito su ritmi elevati ad affacciarsi in avanti prima i morisani al terzo minuto con Esposito bravo a inserirsi tra le maglie bianche altrettanto lo è Natale ex di giornata che di piede interrompe azione pericolosa. Un minuto più tardi rispondono i padroni di casa con Di Ruocco che dalla sua mattonella prova a beffare sul primo palo Piga bravissimo a deviare in angolo. Il Castelnuovo approccia da grande la partita e gli sforzi vengono premiati al 24esimo quando Sanseverino mette in aria con De Gidio bravo di rapina a mettere alle spalle di Piga che poteva fare di più nell'occasione. Il Campo Basso non ci sta e si spinge in avanti ma il Castelnuovo molto attento in fase difensiva riesce a chiudere bene gli spazi. Sul finale di prima frazione e brivido per il Castelnuovo con il palo interno colpito da Vanzan direttamente da tiro d'angolo. La ripresa parte subito con Martino in campo al posto di un opaco Fabbrini tra le fila molisane. Il Campo Basso alza la pressione al terzo minuto ci prova ancora con Vanzan ma la sua conclusione è respinta con i pugni da Natale. Ancora Campo Basso alla ricerca del gol al dodicesimo minuto Zammacchi mette dentro un pallone dove Cogliatti raccoglie e scarica verso la porta ma la mira non è precisa. Due minuti più tardi molisani restano in dieci. Contrasto in aria Teramana con Bontà che va giù toccato da Sec. Braccichini di Macerata vede la simulazione del centrocampista molisano e già monito finisce anzitempo la sua gara. I padroni di casa approfittano subito della superiorità numerica al sedicesimo quando De Egidio pescato libero da croce carica il destro che si spegne nell'angolino alle spalle di Piga. Dopo la girandola di Cambi torna in avanti al ventiquattresimo il campo basso con Vanzan il più pericoloso dei suoi che chiama la risposta bassa Natale. Alla mezz'ora dalla distanza è la volta del nuovo entrato Bregasi per il Castelnuovo ma la sua conclusione viene deviata in angolo da Piga. I molisani faticano con l'uomo in meno a impostare il Castelnuovo all'occasione per chiudere la gara al trentacinquesimo con un colpo da biliardo di Di Ruocco ma il suo tiro fa solo la barba al palo. Nei minuti di recupero arriva il gol della bandiera del campo basso con Sforzini che mette in rete un cross di Esposito, il migliore dei suoi, bravo a recuperare la sfera a centrocampo. Al triplice fischio finale esplode la gioia in casa Castelnuovo che si gode il primo posto in classifica prima della sfida di mercoledì in casa contro il Notaresco. Vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con Replay, la trasmissione di Enrico Rocchi per commentare la vittoria del Pescara con il Monza ma anche per proiettarsi al match infrasettimanale di domani contro il Brescia. Vi ricordo anche che tutti i servizi che avete visto sono disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Prossima edizione del TG alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buona serata. www.tv6.it. Prossima edizione del TG alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buona serata. www.tv6.it. Prossima edizione del TG alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buona serata.